Ci sono pochi allenamenti sulle spalle per la Rosa al completo, per tantissimi motivi. Lo so che non c'è tempo, non c'è tempo in generale, ma questa sconfitta fa male, questa sconfitta ci riequilibria un po'. La squadra si dovrà conoscere, dovremmo ancora conoscerci, lo faremo giocando. Perché quando non ci sei con la testa, dopo un 4-0, Ci sta purtroppo una squadra nuova che ci possano essere gli alti e bassi, che volta continueremo su questo, c'è la possibilità di giocare in vari modi.